accoglienza cura conoscenza riabilitazione questa in sintesi la mission della fondazione centri di riabilitazione padre pio ollus ne parleremo quest'oggi do il benvenuto ai nostri ospiti volto di padre pio tv fraitalo sant'agostino che componente del consiglio di amministrazione della fondazione buongiorno fraitalo e benvenuto ben trovati pace a tutti il dottor giovanni di pilla direttore generale della fondazione buongiorno benvenuti benvenuti allora partiamo da fraitalo che oggi è con noi nelle vesti appunto come diceva paola di membro del consiglio di amministrazione di questa fondazione mentre salutiamo e ringraziamo anche fra piero vivoli che il presidente e che purtroppo non è potuto essere con noi questo oggi fraitalo allora partiamo dai numeri straordinari che la fondazione ha fatto registrare nell'anno che si è chiuso ormai da una quarantina di giorni è un anno importante che certifica il lavoro e l'importanza di questo di questa fondazione nel territorio della provincia di foggia ma poi vedremo più in generale anche in tutto il sud italia partirei da una domanda generale da dove nasce questo lavoro guarda forse questi numeri sono esemplificativi di questa realtà perché quando noi parliamo di numero vediamo una cifra in questo caso specifico dietro quel numero c'è una persona dietro questi numeri grandi ci sono persone e non dal punto di vista generico di un'identità nome e cognome ma dal punto di vista di una sofferenza che quella persona sta vivendo e che sta soffrendo quindi una sofferenza che trova una mano tesa nel lavoro che stiamo facendo dobbiamo fare un po di passi indietro siamo alla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 a casa sollievo già un gioiellino e padre pioce ha lasciato nel 68 però continua esserci una piccola richiesta in particolare c'è un papà che continua ad affacciarsi con questo suo figlio da padre michele e chiede aiuto questo figlio è disabile questo figlio ha bisogno di aiuto lui non sa come poterlo gestire come poter andare avanti e però comunque noi frati non sappiamo dargli una risposta un po gli si dà consolazione però comunque lui torna sempre a casa con la mano in bocca dice io non ho risolto il problema tanto è che lui insiste fino ad arrabbiarsi a un certo punto e dice sì allora voi frati non avete interesse di questa nostra situazione non ve ne prendete a cuore punto e basta allora lì c'è un'apertura di occhi un cambio di sguardo su queste situazioni che soprattutto in quel periodo storico avevano anche il dramma della vergogna che in realtà c'è forse ancora oggi ma molto di meno prima quando si nasceva con un figlio disabile vuoi per la credenza ancora radicata che fosse una punizione e quindi una vergogna per qualcosa che la famiglia avesse fatto tutto era nascosto tutto era tenuto chiuso e quindi oltre la difficoltà dell'impreparazione a gestire queste situazioni alla sofferenza c'era anche una solitudine incredibile non solo della famiglia ma soprattutto del malato allora presa coscienza di questa di questo dramma sociale ecco si è cercato di dare una risposta ed è nato quello che abbiamo oggi e poi torneremo su quello che ci ha raccontato fra Italo perché è doveroso un omaggio anche all'ideatore che padre michele placentino una domanda per il direttore 171 mila prestazioni erogate in regime domiciliare 117 mila 500 in regime ambulatoriale questi sono davvero la fotografia l'istantanea di un impegno forte che non riguarda però solo la provincia di foggia quali sono le attività che hanno contraddistinto l'attività della fondazione la ricerca continua della qualità e dell'efficienza attraverso un rapporto costante con gli operatori e con le istituzioni la regione la asle le amministrazioni locali che da sempre sono state vicine alla fondazione di patripio questi numeri quasi 300 mila prestazioni tra quelle domiciliari e quelle ambulatoriali rappresentano un numero imponente dietro il quale come ricordava padre ito lui c'è tanta attività tanta attività degli operatori che sono sul campo i medici e tutti gli operatori della della riabilitazione interessati ma dietro c'è ancora altro ci sono tutte le attività di sostegno collaterali che consentono questa attività quotidiana in tutti i centri che sono sparsi in tutta la capitanata in tutto il gargano è veramente un caso quasi unico in italia questa organizzazione capillare nei centri anche più marginali della 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 provincia e quindi c'è tutto un apparato che lavora quotidianamente a sostegno di questa attività per raggiungere questi numeri dalle manutenzioni e alla formazione del personale al reclutamento del personale alla sua gestione al bilancio che viene eseguito costantemente insomma c'è tutta un'attività che che sta dietro questa struttura e consente di realizzare questi numeri straordinari abbiamo parlato di padre michele allora vogliamo vedere questo breve servizio di francesco bosco che per certi versi ci ricorda e ripercorre la vita del fondatore dei centri come vengono comunemente chiamati questa fondazione che oggi davvero in qualche maniera stiamo ponendo all'attenzione di voi tutti vediamo insieme questo servizio sul fondatore dopo due anni dalla morte di padre pio in padre michele è sempre vivo il desiderio di continuare con lo stesso fervore del cappuccino stigmatizzato l'impegno umano e cristiano a sollievo della sofferenza infatti nei primi mesi degli anni settanta alcuni genitori dei bambini disabili chiedono all'economo del convento di mettere a disposizione un pulmino che quotidianamente accompagnarsi i loro figli al centro riabilitativo di manfredonia era già morto padre pio e venivano in convento due giovani di san giovane rotondo con i figli ammalati venivano a bussare a convento di fare qualche cosa e gli ammalati e io mi rifiutavo non è che mi rifiutavo se non sono cose nostre io sono un brato di cappuccino non mi intendo di queste cose e li scaricavo quelli ritornavano con insistenza con questi bambini mentre se ne andavano per una delle ultime volte in cui venivano a chiedere l'assistenza ai loro bambini quelli stavano uscendo dalla porta della porta della porta di niente e dissero queste parole sottovoce ma per farmi anche sentire questi monaci non sono più quelli con padre pio mi sono sentito offeso li ho chiamati io ed è cominciato il primo centro padre michele non solo risponde affermativamente ma comincia a pensare di creare qualcosa su san giovanni rotondo così da evitare ai piccoli assistiti il faticoso viaggio giornaliero va così incontro alle esigenze dei bambini disabili con la creazione di una casa riabilitativa nel rione santa croce san giovanni rotondo accanto alla chiesa dei cappuccini di san francesco padre michele investe i suoi talenti e non risparmia energie per una causa nobilissima quale quella di alleviare le pene e le tribolazioni di quelle persone visitate dalla sofferenza lo fa seguendo l'esempio di padre pio di cui è stato testimone nella causa di beatificazione canonizzazione nella sua deposizione infatti padre michele ha definito casa sollievo della sofferenza come il frutto del desiderio di padre pio di poter aiutare gli ammalati un desiderio dal quale egli stesso si fa contagiare eletto dai suoi confratelli come consigliere del ministro provinciale nel 1973 nel 1979 e nel 1982 la passione più grande di padre michele e l'attenzione verso i fratelli più deboli i malati i bisognosi una passione concretizzatasi nei numerosi centri di riabilitazione motoria padre pio da pietrelcina da lui fondati in puglia e molise festeggia insieme ad altri quattro confratelli nel 2014 i 60 anni di sacerdozio nella chiesa inferiore di san pio da pietrelcina quella di padre michele placentino è stata una vita vissuta accanto a padre pio dedicata a dispensare la misericordia del signore a beneficio dei sofferenti e degli ultimi il suo lungo permanere a san giovanni rotondo dal 1964 fino al giorno della sua morte avvenuta il 3 giugno 2015 a 85 anni non ha altra lettura se non quella di permettergli di rimanere nella scia di carità che ha avuto inizio con san pio da pietrelcina finalizzandola ad alleviare la sofferenza delle persone disabili con estrema lungimiranza fonda quella che oggi è una delle realtà più importanti nel panorama della riabilitazione in italia silenzio voi siete missionari e vi è stata affidata una missione molto importante portare conforto ai sofferenti queste le parole del cappuccino di san giovanni rotondo ai dipendenti dei centri di riabilitazione motori a padre pio da pietrelcina che nel 2017 hanno voluto omaggiare il fondatore con un monumento dinanzi agli angeli di padre pio grazie al collega francesco bosco per questo servizio fra italo in poche parole so che è difficile essere sintetici come con con grande pazienza e con grande sacrificio voi frati cappuccini proseguite portate avanti questa questa missione continuandola e ho finito con una parola forse però spiego siamo in un periodo in cui anche dal punto di vista sociale il malato forse diventa meno al centro di quella che sono le preoccupazioni anche politiche anche sociali vediamo per esempio papa francesco che ci parla della cultura dello scarto il malato poi sostanzialmente e questa è una è un modo di pensare che aumenterà nelle generazioni successive è un peso e quindi tu sono tutte tutte energie tutti i fondi anche denaro sprecato verso una cosa che non ci produce niente dal punto di vista della società allora io credo che insistere in questo periodo in cui ecco iniziamo a pensare che se non ci sia una qualità di vita che raggiunga un certo standard non sia poi necessario viverla quella vita e soprattutto mantenerla in vita continuiamo a pensare che poi sostanzialmente se stiamo bene noi siamo bene tutti ecco continuare questa missione di dare dignità al malato e di riconoscere nel corpo del malato non solo un fratello sofferente ma anche la dignità del corpo di cristo ferito ecco questa credo sia la missione centrale sfidando anche le burocrazie che rendono tutto molto difficile sappiamo le norme a volte sembra che uno debba veramente rimboccarsi le maniche per aiutare credo che questo sia il centro continuare nonostante tutto a gridare c'è bisogno di aiuto e la dignità dell'essere umano impone ogni tipo di sforzo ci fermiamo per la pubblicità e poi continueremo a parlare dopo pochi secondi di pausa di questa esperienza straordinaria dei frati minori cappuccini a servizio dei più deboli e dei più sofferenti restate con noi continuiamo a parlare dell'attività della fondazione centri di riabilitazione padre pio hollus e ora vorrei rivolgermi ecco al direttore generale dottor di pilla riguardo al fatto che la gran parte delle prestazioni appunto della fondazione sono svolte nel presidio di san giovanni di san giovanni rotondo gli angeli di padre pio ecco come tutti li conosciamo e uno dei delle caratteristiche dei dati che emerge il fatto che comunque parecchie di queste prestazioni paola prima citato dei numeri che riassumono un po l'attività sono erogate con l'ausilio di innovazioni tecnologiche di robot e poi tra l'altro dobbiamo anche sottolineare in un'epoca in cui vigono i drg e tante altre sigle purtroppo anche senza la copertura totale del servizio sanitario regionale allora direttore le chiederei quale peso hanno avuto queste prestazioni nel corso dell'anno 2023 e poi ovviamente proiettiamoci anche al futuro per il bilancio hanno avuto un peso negativo perché come lei ricordava non vengono riconosciute dalla dalla regione pur essendo erogate ormai da circa un decennio in questo centro che il centro di eccellenza della fondazione senza svinuire il lavoro che viene fatto nelle periferie nei centri che dicevo prima sul territorio con le 300 mila prestazioni territoriali questo però il centro di eccellenza residenziale che ricovera ogni anno circa 500 pazienti 500 persone da assistere di cui 100 bambini provenienti anche dalle altre regioni non soltanto limitrofi ma anche più distanti dalla dalla puglia ed eroga circa 23 mila giornate di degenza 41 mila prestazioni delle quali 10 mila e 500 sono prestazioni tecnologiche e di queste circa 3 mila sono prestazioni robotiche che insomma per per tanto tempo credo ancora oggi siano tra le uniche erogate da centri simili al nostro non soltanto nella puglia nelle regioni centro meridionale ma addirittura in italia soprattutto per quanto riguarda l'area pediatrica di cui meniamo un gran vanto e speriamo che ci venga conservata dalla regione purtroppo come dicevo non tutte queste attività vengono riconosciute dalla regione le stesse prestazioni ambulatoriali e domiciliari una larga parte noi le eroghiamo diciamo per beneficenza in beneficenza è una beneficenza forzata perché la asl non le riconosce pur essendo noi accreditato per tutto questo numero così ingente di prestazioni una parte importante non viene remunerata dalla dalla asl noi lo facciamo quest'anno abbiamo iscritto in bilancio una beneficenza che supera il milione di euro non possiamo permettercelo più in queste dimensioni anche perché avendo adottato il nuovo contratto per una massa imponente di persone tutte assunte nella nostra fondazione con un ruolo e un carattere di dipendenza quindi sono 400 persone il nuovo contratto a un costo molto elevato quindi questa beneficenza così imponente non ce la potremo più permettere nel futuro e stiamo chiedendo alla regione alla asla di venirci incontro da questo da questo punto di vista perché è difficile mantenere gli standard così elevati con i costi che ogni ogni anno ogni mese aumentano senza avere un riconoscimento di questa attività di questo lavoro che viene che viene svolto fra italo c'è una storia che in qualche modo può identificare può raccontare i centri padre pio immagino le storie siano tantissime però una in particolare le storie sono uniche io quando mi si chiede di questo la cosa che penso addirittura personale la prima volta che ho incontrato la realtà dei centri ed ero non ero frate era un ragazzo ancora della gioventù francescana non pensavo che sarei diventato frate a quei tempi non mi ricordo esattamente il motivo ma andammo a manfredonia forse per prendere una statua lì dove allora c'era diciamo questo plesso di riabilitazione e anche la clinica oculistica è un po perché ci avanzava anche tempo ci invitarono e ci dissero venite a visitare vedete qui che cosa che cosa c'è anche questa realtà comunque è gestita dai frati e andammo e in effetti c'erano questi grandi corridoi con tante ragazze tanti ragazzi e io rimasi proprio colpito in una maniera molto molto forte camminando e vedendo questi giovani e poi iniziando a capire un po le storie perché erano persone abbandonate siccome erano nate con autismo con disabilità le famiglie a un certo punto hanno detto e loro vivevano là e erano vivevano là io a un certo punto camminavo ho iniziato a sentire un dolore di quelli che ho lasciato il gruppo me ne sono scappato vicino alla finestra perché non volevo piangere davanti agli altri ho avuto proprio una crisi di mancanza di respiro perché dicevo guarda un po che cosa che cosa c'è e di che cosa siamo ignoranti noi tutti quanti io così vedo i centri diciamo l'opportunità che ha dato dignità con gli strumenti che si avevano a persone che altrimenti non l'avrebbero avuta poi con anche questa capillarità di cui parlavamo prima quella di entrare nelle case dei paesi più lontani dove non arrivava ancora nessun tipo di di sostegno di cura e di competenza però ci sono tante persone che soffrono in questo momento soprattutto nella disabilità che ti lascia una solitudine incredibile perché nessuno ti capisce se non ci passi non lo capisci i centri danno un po di sollievo a queste realtà direttore per chiudere lei ha voluto ovviamente rappresentarci quello che è il quadro economico anche e anche finanziario per certi versi di questa fondazione che deve combattere tante volte non è un verbo usato a caso con la burocrazia con i tanti sistemi i livelli che ci sono a livello regionale poi a salire ma voi nel 2024 e nel futuro come pensate e continuerete ancora ad essere angeli quest'anno abbiamo avviato una nuova attività nel moderno centro di sansevero quella per la cura dell'autismo abbiamo impiegato due anni prima di partire per superare tutte le difficoltà burocratiche di cui lei parlava ci siamo riusciti quest'anno quindi si avvia una nuova attività a completare l'offerta assistenziale della della fondazione con lo spirito originario che è quello che ricordava padre italo noi speriamo di andare avanti con entusiasmo per quest'anno e per gli anni futuri sperando di avere il sostegno delle istituzioni innanzitutto della regione perché si adeguino le tariffe per l'erogazione delle prestazioni si aumenta il fondo regionale per la riabilitazione che è troppo basso troppo sottovalutato credo che questo è un problema nazionale ma anche in puglia il fondo regionale di circa 130 milioni su un fondo sanitario regionale di oltre 8 miliardi è troppo basso per far fronte a una domanda crescente di assistenza in questo settore settore sottovalutato sottovalutato dappertutto a cominciare dallo stato certo che lo ha sottovalutato da sempre ha considerato questo settore una specie di discarica del servizio mi scuso per il termine del servizio sanitario nazionale mentre la riabilitazione è il terzo pilastro del servizio sanitario nazionale insieme alla prevenzione la cura e la riabilitazione così diceva la legge istitutiva del servizio sanitario così non è stato questo è stato uno dei settori più trascurati noi pensiamo e speriamo di andare avanti col sostegno ripeto delle istituzioni doveroso ma anche con il sostegno dei cittadini con la loro generosità noi contiamo molto sulle donazioni sui lasci su 5 per mille insomma su tutto quello che contribuisce a consentire a questa fondazione di sopravvivere di andare avanti perché è presente ripeto in questa realtà difficile ha dato e da lavoro ad oltre 400 operatori alle loro famiglie rappresenta quindi un dato anche sociale economico come ricordava padre padre italo e quindi dobbiamo fare di tutto perché possa continuare a crescere a sviluppare a svolgere questa questa sua funzione perché questa è una fondazione onlus senza scopo di lucro non è non è speculativa e io continuo a dire mi sforzo di dire in tutte le occasioni che questo va salvaguardata va protetta come un bene prezioso di questa terra e della sua comunità e grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi grazie al dottor giovanni di pilla che direttore generale della fondazione centri padre piollus e grazie a fra italo sant'agostino del consiglio di amministrazione grazie davvero per essere stati con noi per per averci parlato di questa realtà importante del nostro territorio grazie andiamo in pubblicità